Due cartucce di fucile ed una bottiglia con liquidi infiammabile, messaggio intimidatorio recapitato da un'impresa, la GP Costruzioni, che lavora alla ristrutturazione di un immobile, un immobile destinato a diventare la nuova sede di Confindustria Vibo Valencia. E' per questo che l'ennesima intimidazione che si registra a queste latitudini colpisce tutti, ovvero tutti coloro che, spiega il presidente degli industriali vibonesi Rocco Colacchio, credono in un'impresa sana che possa crescere anche in contesti difficili e possa dare un grande esempio. Centro storico di Vibo nei pressi della Chiesa del Rosario, un immobile acquistato nel 2009 che Confindustria decide di ristrutturare. Lavori per 60.000 euro inviti a partecipare, buste sigillate, lavori aggiudicati alla migliore offerta. Insomma, malgrado non sia un appalto pubblico e tutto ciò non fosse dovuto massima trasparenza. Ciò perché questa nuova sede deve rappresentare qualcosa di diverso nella terra che non può più essere quella della corruzione, dei favoritismi e delle scorciatoie. Sia simbolo di un rilancio, di pulizia, di trasparenza, di voglia di fare e di crescere anche in una terra difficile. Un simbolo, adesso, anche di resistenza contro la protervia del racket, in una città nella quale, sin dal nuovo anno, il racket non ha dato tregua. Da Vibo Valencia per la Cineus 24.